Il discorso della globalità del sentire, del percepire ogni attimo e la globalità dell'esprimersi certe volte viene non solo scambiata ma anche trasformata in olistico o in avvicinamento delle varie possibilità espressive, artistiche, mentre invece non è questo, è dire mentre noi viviamo stiamo comunque scolpendo lo spazio attraverso un corpo gestuale e tutto quello che è movimento e suono quindi si può musicare, quindi in istantanea trasformare questo in musica e poi noi siamo esposti a una luce che varia continuamente, quindi tutto questo diventa non solo plasticità, diventa sfumature, diventa perché sezionare i linguaggi? Un bambino piccolo perché poi essendo partita da queste sofferenze che derivano anche da quelle prenatali, poi vedremo, per me il bambino è un indicatore importante di quelli che sono i potenziali umani e quindi un bambino non è che deve imparare la musica o deve imparare il ritmo, deve imparare a danzare, il bambino se sente un ritmo solo danza con le melodie, con le scansioni, gli accenti, la stessa cosa è da un punto di vista più grafico, il bambino che scarabocchia racconta storie universali ancestralmente registrate, poi parleremo della propria scezione, sarebbe a dire di questa prima immagine nel grembo materno che era con gli occhietti di dentro come io dico ai bambini e che noi possiamo rivivere chiudendo gli occhi e vedendo dei segni che lasciamo nello spazio che non sono visibili con gli occhi aperti, quindi questa interiorità fatta di segni. Ecco la globalità di linguaggi attualmente ha un apprezzamento a livello diciamo ormai internazionale più che nella pedagogia, più che nella situazione terapeutica nella semiotica, ma non solo perché il mio compagno Gino Stefani che ha una sua storia con la semiotica molto più sviluppata professionalmente della mia, ma perché proprio noi stiamo parlando di segni magari invisibili, segni interiori, quindi questo è chiaro e diventato per me che avevo una tendenza artistica, arti figurative, è una specie di rivisitazione di quelli che sono gli imprinting di un essere umano che non inizia tracciando una linea retta ma che segue quei movimenti sinusoidali che noi registravamo proprio scettivamente muovendoci in un liquido amniotico, quindi è un racconto quello che fa ogni bambino che comunque ha avuto un grembo materno e che comunque riassume le leggi della gravitazione, sarebbe a dire nell'acqua come nel mondo della gravità noi seguiamo delle forme che ritornano ad essere circolari e tutte le fasi dello scarabocchio poi raccontano di questa memoria ancestrale per seguire appunto di più Junga, Saggioni, che è fatta di archetipi che abbiamo sulla pelle tutti e che sono delle forme indelebili dell'umanità, quindi è come dire nel nostro DNA abbiamo già una registrazione che ci unisce al cosmo, che ci unisce alle forme della natura, basta pensare a un occhio all'iride alla pupilla e pensare a un fiore che è attratto, è un attraente per l'occhio e per tutto quello che l'uomo crea, cupole, pavimentazioni del Campidoglio, secondo un mandala, secondo delle forme che poi le ritrovi in tutte le civiltà, in tutti i tempi e da lì è nato un interesse fra l'arte e quella che io definisco l'arte di vivere Grazie. 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 Grazie.